Allora il mio canale era nato per fare diciamo video divertenti e parlare di animali quindi uno cosa fa? Li alternava come video adesso vedete mi sono svegliato, sono fuori con il cane, gli uccellini cantano e niente, ci riesco perché ogni volta devo legge delle boiate mega galattiche e mi devono far diventare un canale si può dire quasi polemico io non voglio un canale polemico io volevo dare delle informazioni sulle mie esperienze personali e sugli animali e altre volte volevo fare degli sketch diciamo divertenti se questo deve diventare un canale di persone che stanno lì, che non sanno come passare la giornata e vogliono a tutti i costi dire la loro perché secondo loro, loro hanno ragione e soffrono di prosopopea se non sapete che cos'è soffrire di prosopopea andateva a fare una bella informazione cercatelo su Google perché poi siete capaci solo a scrivere vedi tu hai cercato su Google, no io ho cercato su Google perché ho fatto la legge a te a rimbacoglionito detto questo a me non mi interessa di quali argomenti si parli l'importante è che si è persone comunque civili ed educate come i cani altrimenti rispecchiate nient'altro che la maleducazione e l'inciviltà che hanno troppe persone insieme ai loro cani quando passeggiano buona giornata a tutti